Allora, una lunga giornata. Beh sì, una lunga giornata, ma credo che si possa concludere bene il lavoro che abbiamo fatto in questi mesi, in particolare su alcuni punti. Penso innanzitutto all'impegno che abbiamo promosso sui giovani. Come sapete oggi cercheremo di concludere questo lavoro e sono fiducioso, così come è credo importante avanzare su alcuni punti, sicuramente agricoltura biologica e discuteremo ancora con il consiglio per cercare un punto di avanzamento. Discuteremo ancora dalla questione lattiera, come sapete, e anche lì con un questionario promuoveremo un ulteriore approfondimento da parte del consiglio, in particolare pensando ai prossimi mesi, al passaggio fine quote marzo 2015. Sapete che ci sono alcuni punti pesca molto importanti e poi una cosa molto importante è quella che cercheremo di fare concludendo la discussione che abbiamo aperto sul tasso di errore nell'applicazione della PAC. Esatto. E qui sono fiducioso che il contributo del consiglio riesca a essere veramente importante soprattutto per l'applicazione nei prossimi mesi. Dopo tutto il lavoro che è stato fatto sul Dio, cosa pensa di questa minoranza di bloccaggio che ha mantenuto una posizione così rigida? Noi ovviamente ci sforzeremo fino all'ultimo minuto, utile, quindi il consiglio di oggi è importante per far avanzare ulteriormente il dossier. Non ci nascondiamo i punti di difficoltà, non ce li siamo mai nascosti, punti di difficoltà su alcune questioni, però credo che anche il lavoro di questa mattina possa essere utile. Lei vede il commissario indilaterale? Adesso. Adesso. E secondo lei, dal momento che non si capisce molto l'atteggiamento della commissione, nel senso che da un lato nella bozza del prossimo programma, che circola già su tutti i settori, prevedono per il biologico o il depennamento o una modifica, secondo lei quale sarebbe la strada migliore da perseguire? Adesso vediamo con il consiglio questa mattina come possiamo assestare ulteriormente la discussione. Il nostro compito come presidenza è quello, anche con il consiglio di oggi, di promuovere ulteriori approfondimenti perché non ci nascondiamo, punti di difficoltà che abbiamo sempre visto anche in questi mesi. La commissione ovviamente ha, tra i suoi dossier fondamentali, questo e credo che noi dobbiamo facilitare ancora una volta il dialogo. Ci sono dei punti italiani che lei pensa di discutere? Noi chiederemo in particolare di poter avere un ulteriore step informativo sulla questione in etichettatura. Come noto in Italia la discussione è molto sentita e giustamente, noi chiederemo in particolare di poter avere dalla commissione informazioni e aggiornamenti rispetto al rapporto che la commissione deve presentare entro il 13 che immagino debba presentare a breve, spero che lo presenti è breve. Grazie, buon lavoro. Speriamo di non vederci troppo tardi, giusto per riprese. Buio, buio. Partiamo col buio. Grazie. Ciao.